Vediamo insieme quando volevamo la pace anche noi, anni fa, facevamo la balata della pace, non ci credete? Non ci credete? Vediamo allora come facevamo la balata della pace. Grazie a tutti. Vediamo i fiammi, i vostri cannoni, che viene la volante della pace, non ci credete, 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 non ci credete. Grazie a tutti. Chi sei? Non ci credete, non ci credete, non ci credete. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? è molto giovane quanti anni sono i fiammi e i vostri cannoni e al bene non li ha volerne per una ballata di pace 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 e tu chi sei? non fai direi di me ... ammattati eh? la mia famiglia non mi chiede non mi chiede ma non mi chiede le viali veste cannoni perché non mi chiede ma non mi chiede no ma non mi chiede notte musicale che sono i migliori e i condici una bala sanità di stracce che chiamo le pietre è finita lei è ancora accesa? buongiorno telecamere come ti chiami? ti porto a dove? a dove? ecco lì Leonardo è mio fratello Splash soddisfatto mia nipote ha coraggio vuole gettarsi con velocità e anche sua mamma adesso la riprendo tutti coraggiosi però io e mio fratello al momento ci riposiamo e guardiamo come si lanciano questi giovani ragazzi certamente noi non ci lanciamo così è meglio stare seduti e guardare che voli certo che bisogna stare attenti che non ci sia nessuno in vasca altrimenti si rischia di colpirli al volo in testa attenzione che si può essere colpiti anche alle spalle come qui con Fiorella e Leonardo non ci faccio non ci faccio che si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.